Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla nuova versione di Android Android L Lollipop 5.0 Tengo a precisarlo comunque perchè negli scorsi mesi abbiamo avuto delle discussioni su relative a cosa stava la L di Android L Quindi Lollipop è la risposta e possiamo metterci con l'animo in pace Dunque, tengo a precisare che in questo video vi mostrerò principalmente i nuovi dispositivi di Google presentati da Google, il Nexus 6 e il Nexus 9 e con una breve parentesi su quello che sarà la nuova versione di Android E quindi come detto, come ho annunciato ieri su Facebook e su tutti i social della pagina e confermato oggi pomeriggio, in giornata avremmo avuto il reveal e quindi poi, come detto prima, in serata, quanto prima, obbligazione del video in cui vi spiego il tutto Allora, partendo dalla nuova versione di sistema operativo Preciso che lascerò tutti i link in descrizione, potete andare a leggere Quello che vi invito a vedere per primo è il post sul blog italiano di Google In cui praticamente viene mostrato, ce l'abbiamo a schermo Viene spiegato quali sono le principali novità della nuova versione di Android E come tramite questo nuovo ecosistema a livello digitale sarà possibile interfacciare vari dispositivi Non più solo il tablet, lo smartphone, la tv e magari il computer Ma le auto, i frigoriferi, i smartwatch Tutto quello che si sta fermando un pochettino oggi sul lato digitale Quanto meno per l'hardware Creando poi un vero ecosistema e tutti i dispositivi che possono comunicare tra loro Quindi potete leggere, trovare più informazioni qui sulla pagina Passiamo poi alla presentazione dei nuovi dispositivi Il Nexus 6 e il Nexus 9 Il cui nome sta proprio alla dimensione dello schermo Il Nexus 6 è un tablet da 6 pollici 5,96 facendo le persone precise E il Nexus 9 è un tablet a 9 pollici 8,9 per la precisione Insomma, siamo lì Allora, piccola precisazione Dunque, io avevo anche pensato di cambiarmi il Galaxy S4 E prendere un Nexus 6 Perché fino a poche ore fa Abituati alla logica Nexus Comunque, sapevamo che qualunque sarebbe stata la presentazione dei nuovi device Avrebbero avuti sicuramente dei prezzi estremamente competitivi Non sappiamo ancora perché Lo sapremo magari poi E lo condividerò sicuramente sui social se esce qualche articolo dedicato Comunque, i prezzi di questi nuovi device Soprattutto per il telefono Sono alla linea del mercato Quindi trattandosi di un top di gamma Il Nexus 6, per esempio, esce al pubblico a 6,49 nella sua versione 32 GB Ve lo presento brevemente Vabbè, lasciando le reti 4G e 3G Sappiamo che c'è una rete LTE Che raggiunge il download fino a 300 Mbps Il resto, come sempre HSDPA, LTE in upload a 50 Mbps E HSUPA Potete leggerlo sulla pagina che abbiamo davanti Display, potete leggere le dimensioni e il peso Ce l'abbiamo sempre qui sulla pagina Display AMOLED con 16 milioni di colori Con risoluzione di 1440x2560 6 pollici per una densità di pixel di 493 pixel per pollice Quindi veramente uno schermo estremamente dettagliato Forse ce ne sono stati in precedenza e mi sono sfuggiti Comunque è il primo device che guardo su GSM Arena Con questo tipo di schermo Poi corning con la class 3 Quindi schermo resistente Disponibile in versione 32 e 64 GB Con 3 GB di RAM Avrà un sistema ovviamente leggerissimo Quindi prende un telefono che ti sia da durare Veramente tantissimo come tutti i dispositivi Nexus Tant'è che oggi Magari il Nexus 4 è un pochettino datato Ma il Nexus 5 comunque rimane un punto di riferimento Tant'è che rimarrà in vendita Tengo a precisarlo Bluetooth 4.0 Wi-Fi compatibile con tutte le versioni fino alla C Quindi tutte quelle che ci sono Fotocamera da 13 megapixel Con dual LED flash E quella con possibilità di fare video in 4K E fotocamera frontale da 2 megapixel Sistema operativo Android 5.0 E processore No chipset Qualcomm Snapdragon 805 Che ha un quad core Da 2 GHz e 7 Cioè quasi 3 GHz Cose impensabili Da un po' di tempo fa E GPU Adreno 420 Poi tutta la serie di sensori Che ormai sono un must Per ogni tipo di telefono Cose da segnalare di questo device Sono la possibilità di Effettuare la ricarica tramite wireless E' una tecnologia che secondo Google Permetterà di ricaricare in 15 minuti La batteria per un'autonomia di 7 ore In più con una nuova funzionalità di sparmio energetico Presente su Google Android 5.0 Avremo praticamente la possibilità Di avere 90 minuti in più di autonomia sulla batteria Il telefono è disponibile a 649,32 GB E a 6,99 nella versione a 64 GB Si può prenotare dal 29 ottobre E uscirà a novembre Non sappiamo ancora quando precisamente Oltre a questo Riflessione mia sul prezzo Dunque il telefono non verrà distribuito Solamente sul Play Store Come sempre Ma anche i principali rivenditori In Italia come Media World O gli altri che non so qui a rivedervi Avranno la possibilità di vendere questo telefono Molto probabilmente per le leggi di mercato Oppure per Non dico imposizioni Comunque strategie imposte dagli stessi rivenditori Il prezzo al pubblico è uscito Secondo questa fascia di prezzo La mia teoria Vabbè Ci ho pensato in questo momento Poi Passando al Nexus 9 Abbiamo un tablet EPS RCD Con una risoluzione 2536 x 2048 pixel Con una densità di pixel un pochettino più bassa Buona comunque Però un pochettino più bassa Andiamo sopra il Full HD Di poco però Comunque abbiamo 281 pixel per pollice Versione da 16 e 32 GB Con 2 GB RAM Il Nexus 9 Parte dai 400 euro Quindi c'ha una scheda tecnica un pochettino più Tra virgolette Non dico di seconda scelta Componenti leggermente inferiori rispetto al Nexus 6 A partire dal display è più grande Comunque un buon display Stesso discorso per il Wi-Fi Stesso discorso per il Bluetooth Stesso discorso per la connettività Ovviamente ci sta la versione LTE dedicata Che costa 32 GB Costa 569 E che uscirà un po' dopo Lo stesso tablet Le altre due versioni sono 16 GB Wi-Fi a 3,99 32 GB Wi-Fi a 4,89 Fotocamera posteriore a 8 megapixel Video in Full HD E quella frontale da 1,6 megapixel Stesso discorso per il sistema operativo Ovviamente Chipset NVIDIA Tegra K1 E un quad cord 2,3 GHz DEMBER GPU Kepler made by NVIDIA Quindi comunque Di ottimo livello Stesso discorso va bene Con i sensori E tutto quello che ne concerne Batteria non rimovibile Da 6700 mAh Non l'abbiamo guardato Su Nexus 6 Da 3220 mAh Comunque Entrambe garantiranno sicuramente Un'autonomia Veramente grande Per quanto riguarda invece Il tablet Una prenotazione disponibile Tra due giorni Il 17 ottobre E il rilascio è atteso Per il 3 novembre Questo è quanto Bene o male L'ultima presentazione Che tengo a farvi È che la versione di Android Arriverà ufficialmente Il 5.0 Anche su Nexus 5 Nexus 7 Nexus 10 E quanto si ricava Dal posto Sul blog Di Google Italia Però Poco dopo la presentazione È arrivata la notizia E comunque arriverà Anche su Nexus 4 Ci tengo a precisare Comunque Che Sicuramente arriveranno Rom cucinate Da parte della community Online Su XDRi Se uscirà qualcosa Relativo a Galaxy S4 Dispositivi Galaxy S5 Dispositivi comunque Che supporteranno Questo tipo di rom Sicuramente arriverà Il tutorial dedicato Sul canale Perfetto Io credo di avervi detto tutto Quindi Chiudo qui il video Vi invito Come al solito A farmi sapere Cosa ne pensate Vi invito a lasciare un mi piace Sul video Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Non perdetevi i prossimi video E come al solito Io vi saluto E noi ci vediamo Al prossimo video